eccoci qua anche oggi in ufficio per fare quello che fanno tutti i miei colleghi di Fratelli d'Italia togliere la bandiera di questa Europa che non ci rappresenta da studenti cantavano per l'Europa nazione delle patrie non questa dei burocrati e della finanza che nell'unico momento in cui doveva essere unita ha veramente fatto emergere i propri egoismi quindi questa bandiera non mi rappresenta e la metto via finché non cambierà radicalmente questa Europa